Il pesto perfetto dei tortellini che varia comunque a seconda di tradizione della propria famiglia io lo faccio come lo faceva la mia nonna con mortadella e prosciutta crudo poi aggiungo macinato di maiale, di vitello e leggermente rosolati e poi aggiungo tanto parmigiano, un pizzico di noce moscata e un uovo Grazie a tutti